ciao a tutti ragazzi ben ritrovati finalmente abbiamo un po di news per quanto riguarda dragon ball fighters completamente a sorpresa l'account twitter di dragon ball hype che è un account che si occupa di tutto ciò che riguarda dragon ball sia i videogame sia l'anime sia scan dei manga eccetera eccetera ha pubblicato un leak di della rivista v jump che è una rivista che si occupa anch'essa di anime di dragon ball di anche altri anime soprattutto di giochi dedicati agli anime e appunto l'iccato il prossimo dlc di dragon ball fighters io non me l'aspettavo e probabilmente nessuno si aspettava questo personaggio e quindi io mi trovo qui a darvi la notizia sono assolutamente contento di questa notizia voglio condividerla con voi in origine doveva essere omega shenron tutti avevano detto che sarebbe stato omega shenron diciamo che era abbastanza sicuro che avrebbero pescato da dragon ball gt ma tutti dicevano omega shenron pare che si fossero anche trovati dei file di gioco in cui personaggi come quote di vittoria si riferiscono appunto ad omega shenron bene avevamo tutti sbagliato non è omega shenron si tratta di super baby 2 altro villain di dragon ball gt che a quanto ho capito assorbe i poteri di altri personaggi in questo caso nella versione specifica super baby 2 che è quella che sarà su fighters ha assorbito vegeta quindi mi aspetto che abbia qualche aspetto del moveset di vegeta scusate il gioco di parole del suo aspetto che abbia qualche mossa qualche qualche tecnica perlomeno di vegeta super saian io sono molto sorpreso e sono sorpreso in positivo perché innanzitutto bandai namco ha preso in giro fondamentalmente tutti è riuscito a nascondere questo personaggio fino alla fine quando tutti si aspettavano omega shenron e due perché secondo me questo personaggio può essere molto interessante dal punto di vista del gameplay perché integra il moveset di un personaggio già stratificato come vegeta con degli aspetti nuovi perché comunque non è lui è comunque un altro personaggio che si è impossessato del suo corpo e può avere delle delle abilità nuove delle abilità diverse che potrebbero essere veramente molto interessanti non voglio farla troppo lunga io sono molto contento di questo link omega shenron mi sembrava un po noioso fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate se siete contenti di questo link è un link abbastanza attendibile perché v jump è una fonte molto attendibile ha già riccato tutti i personaggi precedenti quindi solitamente loro hanno l'esclusiva ma è una rivista solo giapponese quindi stiamo sicuri almeno al 98 per cento non è mai successo che non fosse attendibile e quindi non mi aspetto che non sia attendibile questa volta diciamo non è solita trollare questa rivista niente io vi saluto vi rimando ai soliti canali e ci vediamo in giro ragazzi ci vediamo al prossimo video ciao ciao